Stavo a pensare, il ping pong è un po' la metafora della vita, la vita ti girano una grana e tu gliela ritiri, arrivano al ciocco, tu glielo rimbogli, tu glielo rimandano, tu glielo rimandi, hai brutto e metti una pomada, è la metafora della vita, che poi è un po' tutto la metafora della vita. Sei pronto Daniele? Prontissimo. Come va? Ci sei col dritto?